Musica Musica A presto vertice è il primo appuntamento internazionale che l'Italia ospita da quando ha assunto la presidenza del G7, una cooperazione da pari a pari, lontana da qualsiasi tentazione predatoria, ma anche da quell'impostazione caritatevole nell'approccio con l'Africa, che mal si concilia con le sue straordinarie potenzialità di sviluppo. E anche per garantire alle giovani generazioni un diritto che finora è stato negato, perché qui in Europa noi abbiamo parlato spesso del diritto a emigrare, ma non abbiamo parlato quasi mai di come garantire il diritto a non dover essere costretti a emigrare. Il migliore sarà il nostro risultato sulla migrazione, il migliore sarà il nostro contributo alla prevenzione della migrazione clandestina. Mattei è stato un grande italiano, un grande europeo, un vero amico dell'Africa, prima di chiunque altro aveva capito che la vostra forza è la nostra forza e viceversa. Cari amici, il mondo sta cambiando e dobbiamo cambiare anche noi con esso. Favorendo la creazione di lavoro daremo un colpo decisivo ai trafficanti di essere umani, che sono i nostri comuni nemici. Insieme li sconfiggeremo perché se loro investono sulla disperazione, noi vogliamo investire sulle opportunità. La stabilità e la crescita dell'Africa sono anche la stabilità e la crescita dell'Italia e dell'Europa. Signora Presidente del Consiglio, mi è parso di capire che il piano Mattei che lei propone e sul quale avremmo auspicato essere consultati, ebbene comunque l'Africa è pronta a discutere i contorni e le modalità dell'attuazione del piano Mattei. Il piano Mattei della Meloni è tutto fumo e niente arrusto. Mettono le mani nel fondo per il clima per finanziare un piano predatorio per gas e petrolio senza nemmeno consultare il Presidente della Commissione dell'Unione Africana. Il piano Mattei è un grande blef. Il governo italiano sta facendo il gioco delle tre carte con risorse aggiuntive che non ci sono. E quindi questo summit rischia di essere una passerella ai danni dell'Africa. Il debito all'Africa va cancellato, è quello che chiediamo alla Premier Meloni, perché questo debito impedisce l'accesso all'acqua, all'istruzione, alla scuola, alla sanità. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, il piano Mattei, alcune delle cose sono state svelate ieri in Senato dalla Premier e Giorgia Meloni durante il summit Italia-Africa. Tanto per cambiare divide maggioranza e opposizione. Avete sentito i commenti. Ieri c'è stata una conferenza stampa finale della Premier che si è detta legittimamente soddisfatta dei risultati raggiunti. Ha detto che finalmente c'è un nuovo approccio, una nuova partnership tra l'Italia e l'Africa, tra l'Europa e l'Africa. Come sapete hanno partecipato alla conferenza anche i vertici dell'Unione Europea. Abbiamo saputo intanto che c'è una dotazione, una prima dotazione, ovviamente è una goccia nel mare di 5 miliardi e mezzo spalmati negli anni, una dotazione che attinge dal Fondo Italiano per l'Ambiente e dal Fondo per la Cooperazione allo Sviluppo, come dire, sottraendo questi soldi a due di Casteri guidati entrambi da due esponenti di Forza Italia, perché nei commenti di oggi si parla anche di questo. Avete sentito le parole dell'opposizione che parla di un blef e questa è una questione. Poi c'è la vicenda di Ilaria Salis, che è l'attivista, 39enne italiana, che da quasi un anno è detenuta nelle carceri ungheresi. Ieri è stato scioccante vederla in aula, in udienza, con le catene ai polsi e alle caviglie, scortata quasi al guinzaglio da un agente della sicurezza. La Procura ha chiesto per lei 11 anni. Che cosa è successo? È successo che è stata coinvolta, diciamo, ed è accusata di aver aggredito alcuni estremisti di destra in una contromanifestazione. La Procura ha chiesto per lei 11 anni di detenzione, ne rischia fino a 16. Finalmente, è il caso di dire, le autorità italiane si sono svegliate. Tagliani ancora stamattina ha detto c'è un'evidente violazione dei diritti, diciamo, dei detenuti, violazione delle norme comunitarie. Ha fatto sapere che l'ambasciatore italiano a Budapest oggi interverrà nuovamente. Insomma, si cerca di capire se è possibile per lei, se sono possibili gli arresti domiciliari o addirittura farle scontare la pena da noi. E anche su questo caso si sono aperte le polemiche politiche. Infine, come già abbiamo fatto in questi giorni, parleremo della protesta degli agricoltori che si estende in Europa e sta, come dire, contagiando sempre di più anche il nostro paese. Do il bentornato a Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Buongiorno. Ciao Barbara. Saluto Federico Palmaroli, Osho. Ciao Federico. Buongiorno. Buongiorno. Per la maggioranza e con noi l'onorevole Marco Campomenosi, europarlamentare della Lega. Bentornato. Grazie a voi per il vito. Buona giornata. Grazie e per l'opposizione saluto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice d'Italia Viva. Bentornata. Buongiorno. Allora, che te ne pare di questo piano Mattei, Barbara? Insomma, qualcosa in più l'abbiamo saputa rispetto anche al dibattito parlamentare di qualche settimana fa? Sì, qualcosa l'abbiamo saputa, ma sottolineo una cosa che ieri ha detto Giorgia Meloni, ha detto serve l'Europa. Senza l'Europa sostanzialmente anche noi non andiamo da nessuna parte, perché per quanto queste risorse, 5 miliardi, non sia 5 miliardi e mezzo, non siano una cifra indifferente, però rispetto al continente africano stiamo parlando di una goccia nel mare. Ma soprattutto quello che manca, perché poi tra l'altro l'Europa ha un piano... Però l'Europa era schierata con i suoi vertici ieri lì, eh? Era schierata con i vertici, ma ricordiamo, come sappiamo tutti, che quei vertici sono in scadenza, nel senso che a giugno quei vertici non ci saranno più. L'unica dei tre che potrebbe restare è Ursula von der Leyen, che si è spesa molto a sostegno del piano Mattei e che ha una... Stavo dicendo anche un rapporto speciale con la Premier, no? Non c'è dubbio. E quindi questo rapporto è importante, però insomma lo limiterei anche al fatto che comunque stiamo parlando dei vertici che sono in scadenza. Ripeto, c'è un tema che è il tema proprio del come l'Europa si muove, peraltro non solo sull'Africa, la lentezza con cui si muove. E lentezza che su questo Giorgio Meloni ha certamente ragione, ha fatto sì che nel corso degli anni occupasse la scena altri due paesi che oggi sono praticamente lidere in Africa, che sono la Cina e la Russia, e al terzo posto la Turchia. Questi tre paesi di fatto, sul fronte economico, certamente la Cina, cioè i maggiori investimenti in Africa li sta facendo la Cina. Per quanto riguarda invece la Russia è la difesa. Cioè anche ieri in alcuni interventi è emerso questo... Cioè è chiaro che la Russia ha dato ad alcune nazioni, alcuni paesi, quella difesa che loro non sarebbero stati in grado. Guardiamo soltanto la Libia. E la Turchia sul fronte logistico, anche di armamenti, ma soprattutto logistico. I principali aeroporti in Africa sono costruiti da turchi. Quindi stiamo parlando di tre paesi che per ragioni diverse comunque hanno una presenza in Africa massiccia, importantissima. Sì, verrebbe da dire meglio tardi che mai, non lo so. Certo, sì, ripeto, il tema adesso è non è tanto quanti soldi mettiamo, ma è in che modo... Anche le alleanze che dobbiamo costruire intorno al piano Mattei, no? Per esempio, a nessuno è sfuggito, e credo per prima la Meloni non è sfuggito, che ieri erano assenti i tre principali, leader dei tre principali paesi africani, in termini di PIL, ovvero la Nigeria, l'Egitto e l'Algeria. Tra l'altro con l'Algeria noi abbiamo un rapporto, come dire... Privileggiato dovrebbe essere. Privileggiato, molto forte. Ricordo peraltro che in Algeria c'è un monumento dedicato a Enrico Mattei, unico occidentale che viene, insomma, celebrato in Algeria, quindi il rapporto da questo punto di vista è anche positivo. Eppure non c'era il presidente algerino, con il quale peraltro Meloni è andata... Ci sono stati diversi, anche Draghi era andato, perché è il nostro principale fornitore di gas. E poi l'ambasciatore principale di tutta questa operazione, non c'è dubbio che è innanzitutto l'ENI di Descalzi, perché poi la grande, la forza, diciamo, di questo piano, che non a caso è riferito a Mattei, cioè al fondatore dell'ENI, è che l'ENI in tutti questi anni, a prescindere dai governi, c'è sempre stato e ha mantenuto, nonostante tutte le difficoltà legate proprio alle penetrazioni degli altri paesi, quindi di altri concorrenti, ha mantenuto un rapporto forte, stabile e investimenti molto importanti nel continente africano. Quindi l'Italia, diciamo, da questo punto di vista, il governo italiano è aiutato moltissimo dalla presenza di ENI. Senza ENI non andremmo da nessuna parte, probabilmente, a prescindere dalle disponibilità. A proposito di questa tua ultima considerazione, oggi leggevo un'intervista Corriere della Sera di Romano Prodi. Romano Prodi dice, a proposito del piano Mattei, dice, la scelta di guardare all'Africa è non solo giusta, ma anche necessaria, però finora, riferendosi alla conferenza di Roma, insomma, a quello che sappiamo nel piano Mattei, dice, questo è finora soprattutto un piano per l'energia e da solo non sarebbe determinante anche solo per la scarsità delle risorse. Serve oggi un progetto più ampio portato avanti dall'Europa intera. Ma, insomma, questo lo dice Romano Prodi. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità, poi voglio sentire, a proposito anche delle critiche dell'opposizione, Cosa ne pensa Italia Viva, che mi pare abbia avuto un atteggiamento di attesa, insomma, per capire, ma ce lo dirà adesso la senatrice Paita. Tra poco... Allora, chiedo alla senatrice Paita se per lei il piano Mattei, stando a quello che sappiamo, che conosciamo, che ha detto ieri sera, diciamo, dando maggiori dettagli la Premier Meloni, se per lei è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mettiamola così. È un bicchiere per ora. Ah, è un bicchiere. Quindi lei vede il contenitore e basta? È un bicchiere. Vedo un contenitore. Italia Viva ha sempre creduto nelle politiche di cooperazione, quindi ci mancherebbe altro. La nostra non è una opposizione ideologica, quindi anche i toni che ho sentito da parte di alcune forze politiche della sinistra non li condivido, però bisogna essere realistici. Il primo tema è quello che è stato sollevato prima, cioè davvero se non ci fosse stato descalzi, cioè quello che quando fu nominato Meloni gridava e tuonava servi della lobby del gas, questo piano in realtà sarebbe niente. Seconda questione sono le risorse, si diceva appunto 5 miliardi circa, ma rastrellati da finanziamenti che già c'erano e che quindi in qualche modo devono essere compensati. E poi una forte preoccupazione sul fatto che i progetti in realtà siano pochissimi e quindi non sia pronta una strategia vera e propria. Aggiungo il fatto che se si vuole un coinvolgimento delle aziende italiane bisogna lavorare per favorirlo anche attraverso una politica di consorzi, quindi diciamo così di messa in rete di queste aziende. Non c'è dubbio che sia un progetto molto ambizioso e molto complesso. Per ora molto sulla carta. Lo sappia in primis proprio Giorgia Meloni. Per ora sì, molto sulla carta, molta fuffa. Naturalmente l'auspicio è che si arrivi a qualcosa di più concreto, che ci sia un salto di qualità nel ruolo dell'Europa, su questo sono perfettamente d'accordo, e che si cominci davvero a entrare nel merito di queste questioni, perché è chiaro che una strategia europea e italiana nei confronti dell'Africa ha tante finalità, anche quella sul flusso migratorio, è estremamente importante. In più, devo dire, ieri quella critica da parte del Presidente della Commissione dell'Unione Africana è stata piuttosto pesante. Giorgia Meloni ha detto che forse si riferiva al passato, cioè il piano non è chiuso, un progetto in divenire. Temo che si riferisse al presente e tuttavia penso che sia importante fare anche, in qualche modo, farci carico delle critiche che sono arrivate con un maggiore coinvolgimento, con una maggiore disponibilità all'ascolto. Quel vertice per ora, ripeto, è un bicchiere, né mezzo pieno né mezzo vuoto. È qualcosa che va riempito di contenuti, di significato. Quello che io consiglierei, ovviamente la Premier Meloni non ha bisogno dei miei consigli, ma in ogni caso mi spingo, diciamo così, a provare a darglielo, è di utilizzare un po' meno retorica, perché francamente, come dire, di questo approccio sempre così enfatico, sempre così, diciamo, propagandistico, il Paese comincia a essere un tantino stanco. Sentiamo l'onorevole Campomenosi, perché, insomma, da parte, e io aggiungo legittimamente, degli esponenti Fratelli d'Italia, c'è grande soddisfazione, vogliamo dirla così, per questo avvio. Siete anche voi soddisfatti, voi della Lega? Ma assolutamente sì. Io ho un ritorno fortissimo. Adesso cerchiamo di migliorarglielo, piano piano. Io sono un pessimista per natura, però francamente mi sembra che le cose che sento in studio siano veramente di persone molto, molto più pessimiste di me, quindi cambierò giudizio su me stesso. Guardate che ci sono alcune cose che non abbiamo ancora detto, tolgo l'audio perché... Sì, sì, prego, prego. L'Africa, l'Unione Europea non si è occupata di Africa, perché pensava che l'Africa fosse una cosa di cui si dovevano occupare i francesi, e lo pensava fino all'altro giorno. I stati del Sahel, che col sostegno di Putin, e questo purtroppo è drammaticamente negativo, si sono rivoltati, si sono rivoltati soprattutto a un atteggiamento neocolonialista dei francesi. La Tunisia ha negoziato in bilaterale, e alcuni dei ottimi risultati stanno arrivando adesso sul tema dell'immigrazione, quando tutti dicevano che non è servito a niente ancora con la Tunisia, ha negoziato bilateralmente con l'Italia, perché la Francia non la volevano vedere nemmeno di più, ci sono stati quindi degli errori, e quindi è grazie all'Italia che Bruxelles e la Commissione Europea oggi possono partire con un dialogo nuovo. Poi certo, è stato detto Nigeria e Egitto-Algeria, a parte che con l'Algeria abbiamo, anzi con tutti e questi tre stati abbiamo dei rapporti bilaterali, e anche a livello europeo. Guardate che la Commissione Europea ha, secondo i trattati, il mandato esclusivo per negoziare gli accordi commerciali. In questi anni non siamo stati nemmeno in grado di rinnovare l'accordo, quello verso i paesi più poveri, il cosiddetto SGP+, che serve per agevolare i paesi che vogliono commerciare con noi. Perché non ci siamo riusciti? Io ero uno dei relatori, vi assicuro che avevamo tutti i gruppi un atteggiamento positivo, perché non ci siamo riusciti? Perché la Cina quando va in Africa non pone alcune condizioni all'Italia, dice datemi le vostre materie prime, ecco il denaro. Noi diciamo, guardate, vorremmo commerciare con voi, ci mancherebbe, ci interessano le vostre materie prime per la transizione e questo e quest'altro, ma vorremmo altresì che sui diritti umani facesse degli impegni di un certo tipo. E questo ci dà delle difficoltà. Dobbiamo essere più programmatici? Io credo che sia giusta una via di mezzo, non dobbiamo abbiurare rispetto a quelli che sono i nostri principi, ma allo stesso tempo dobbiamo sapere che chi va lì è più efficace di noi perché non gliene frega nulla di quello in cui noi crediamo. Ma a partire dalla Turchia, membro Nato, che ogni settimana bombarda il Kurdistan iracheno e che va e agisce soprattutto nei luoghi dove vuole incentivare la presenza dell'Islam, con finanziamenti per moschee, insieme al Qatar, insieme ad altri paesi. Quindi è tutto molto complesso. Lenin ha fatto il ministero degli esteri per tanti anni di un paese che aveva governi che duravano un anno, un anno e mezzo. E meno male che c'era Lenin, che è comunque un'azienda di Stato. Oggi, che io spero, andiamo verso governi di legislatura, possiamo fare in modo che oggi sia finalmente lo Stato direttamente a occuparsi di questi temi. E magari quando ci sarà un governo di altro colore politico al termine di questa legislatura, proseguire su questi passi senza dover ricominciare da zero e anzi, quindi avendo un luogo, un contenitore, il piano Mattei, dove mettere insieme e coordinare meglio tutte queste attività. Ovviamente poi pian piano con più denaro e coinvolgendo i privati, come ha detto anche Raffaella poco fa. Sì. Allora, l'intervento, la riflessione dell'onorevole Campomenosi e adesso poi vado da Federico Palmaroli da Oscio, mi permette di dire due cose che sono state evidenziate. Intanto che questo piano Mattei, comunque la si pensi, o viene abbracciato, diciamo, dalla politica tutta, anche in prospettiva di quando finirà questa legislatura, ammesso che il centro-destra duri fino alla fine, cioè o viene condiviso oppure è un problema, indipendentemente da chi lo propone. Faccio questa domanda a Barbara Raffa e Meri, ti chiedo una risposta rapida. La seconda cosa che diceva Campomenosi è che, adesso questo riguardava i rapporti tra Europa e Africa, però se la concorrenza è sleale, citava la Cina, questo riguarda tanti altri campi e noi abbiamo delle belle briglie, insomma, come Europa. Giustamente si citavano i diritti civili, si possono citare i diritti sociali, si possono citare molte cose. Cioè i paesi autocratici come Cina e Russia se ne fregano. La metto così un po' in maniera prosaica, permettetemi. Allora, la risposta, due risposte. La prima per quanto riguarda il futuro del piano se dovessero cambiare le maggioranze. Beh, è chiaro che si tratta di investimenti di medio-lungo periodo e solitamente la politica estera di un paese viene portata avanti sia da... Cioè, come dire, dovrebbe essere... È abbastanza riconosciuta da entrambi gli schieramenti. E in questo caso è avvenuto, per esempio, il finanziamento che oggi Giorgia Meloni mette in campo per questo piano proviene dal governo Draghi. Quindi, diciamo, c'è una continuità e lo stesso Draghi era, come dire, aveva sostenuto fortemente gli investimenti di Eni, per esempio, in Algeria, proprio per, no, come dire, difenderci rispetto a quello che stava avvenendo con la Russia al taglio delle forniture di gas. Alla rinuncia, no, delle forniture di gas. Secondo aspetto che diceva l'onorevole della Lega ha ragione, è vero. Nel senso che, ad esempio, faccio un esempio sul nostro giornale oggi, parliamo della preoccupazione di IlliCaffè perché per l'importazione di caffè dall'Etiopia. È un fatto molto concreto. Entrerà in vigore una direttiva dell'Unione Europea in cui, giustamente, si dice che laddove si siano prodotti in aree di deforestazione dove non vengono rispettati i diritti umani, dove... Cioè, tutta una serie di prescrizioni. E IlliCaffè sottolineava sì, ma noi in questo momento dobbiamo importare il caffè nove mesi prima rispetto a quando poi lo incapsuliamo. In questo momento, quindi tra poco, nel senso che entra in vigore il primo gennaio del 2025, ma noi ci dobbiamo muovere adesso. Non siamo in grado di poter andare neanche nei campi per verificare che effettivamente le aree dove si sta producendo non siano già... Quindi tutto questo... È uno snodo cruciale, secondo me. E quindi questo è un fatto molto concreto. Si può prendere il caffè un'azienda, può comprarlo il caffè dall'Etoia o non può comprarlo. E se non lo compra e lo deve comprare da qualche altro fornitore, non solo cambia probabilmente la qualità del caffè, ma può cambiare il costo e questo incide ovviamente... Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, che ci sono molte implicazioni in una decisione come questa. E tra l'altro, scusa, un'ultima cosa. Noi parliamo di Africa, no? È come se parlassimo di Asia. Ci sono tante Afriche, ma questo si sa. Le Afriche sono diverse, quindi anche questo atteggiamento, l'Africa, il continente, ma anche le... Come dire, anche la risposta per esempio di Moussafaki ieri, no? E poi la sera il presidente invece dell'Unione Africana che ha detto probabilmente Moussafaki che conosco bene non ha capito bene il piano Mattei. Ti fa capire che insomma ci sono anche ovviamente dei contrasti violenti, anche molto forti, che danno a guerre. Quindi l'idea che insomma si parli genericamente... ha un problema nei condomini, figuriamoci in un continente vastissimo come l'Africa. Federico Palmarone, non so se volevi dire qualcosa rispetto... No, beh, mi pare evidente che comunque il problema delle migrazioni anche col governo di destra a fermare le migrazioni abbiamo visto che è molto complicato. Ma le migrazioni non si fia... Cioè la storia dell'uomo è storia di migrazioni, quindi pensare di fermare le migrazioni è come... E' che è stupido dirlo. Diciamo che se si garantissero si devono regolare. Si devono assicurare le migliori condizioni di queste persone nei propri paesi. Il famoso luogo comune aiutiamoli a casa loro forse, no? Mi sembra la soluzione più sensata, non quella più immediata, però sicuramente l'unica percorribile credo rispetto al... Fino a un certo punto abbiamo un problema demografico in Italia, a meno che non si voglia preservare l'identità della razza, però abbiamo un problema demografico che senza l'immigrazione potrebbe diventare catastrofico proprio per un paese come l'Italia che siamo i più vecchi al mondo dopo il Giappone. Cercherai di risolverlo non solo con la migrazione, diciamo. Con politiche ovviamente, con la famiglia, portino gli italiani ad avere... Questa è una grande questione pure che divide molto. Faccio un esempio, se noi regolassimo in modo serio, noi come anche il resto d'Europa, i flussi migratori, abbiamo una esigenza di lavoratori che non si trovano e magari avessimo la possibilità di offrire delle opportunità a giovani africani che si sono laureati, che vogliono... Per canali legali, Quello sicuramente. Il problema è che noi la migrazione la vediamo soltanto con gli arrivi, con le barchette sulle coste italiane, ma il livello di istruzione, ad esempio, in Africa, in alcuni paesi in particolare, sta crescendo enormemente e allora non si capisce perché noi che siamo il ponte, per usare l'espressione usata dalla Premier, non utilizziamo questo ponte, per esempio, per attrarre queste risorse. Allora aspetta, su questo adesso poi voglio coinvolgere i capomenosi, però permettetemi di fare una piccola parentesi. Voglio farvi vedere la vignetta oggi di Osho sul tempo, prima pagina del tempo, la possiamo vedere? Eccola qui. Allora, c'è, ci sono Sinner e Iokovic, non mi pare? Sì, sì. Beh, adesso si parla della partecipazione di Sinner che diventerà Sinner. Diciamoci, fra cammini, Amadeus sta facendo carte false per averlo al prossimo finito. Ovviamente, ma anche Djokovic si è stato nel 2020, se non ricordo male. Lasciamola, lasciamola questa vignetta, scusate. Rimettiamo la vignetta del tempo, non so perché. Ecco, prego. E Djokovic appunto gli diceva, sai sì che mo' te toccano a Sanremo? A Sapello te facevo vincere, perché non credo, perché sembra che Sinner non abbia molta intenzione di diventare singer, ma comunque... Sì, sì, no, però per vedere che cosa gli chiedono di fare e che cosa lui sarà disposto a fare. Certo, lo faranno palleggiare sul parco. È arrivata la notizia che nel pomeriggio Yannick Sinner sarà ricevuto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, giovedì invece già si sapeva sarà ricevuto con tutta la squadra di Coppa Davis al Quirinale da Mattarella, così come vedete siamo in piena attualità. Vediamo altre due vignette che tu hai dedicato a Sinner, vediamole un po'. E arrivano, ecco. Questa è ribaltata, però dice un'altra cosa, forse è meglio per un po' non ci vediamo, gli dice Djokovic a Sinner, perché è il quarto incontro nel giro di pochissimo tempo fondamentalmente, insomma diciamo che nel torneo l'ha vinto Djokovic, però diciamo che questo, l'ultimo in particolare è stato... Insomma si vedeva il crescendo di Sinner e poi ce n'è un'altra credo, vediamo un po'. No, non è questa, allora via. No, credo che sul tema è sempre questo. Questo è il tema politico, Il tema politico, l'unico rosso che vince qualcosa è Sinner, perché per gli ultimi anni... E questa è perfida, sono l'andini ovviamente come vedete la segretaria del Partito Democratico Schlein, peraltro lo anticipiamo per chi è a Roma, per chi transita da Roma, per chi domani verrà a Roma esplicitamente, domani sera alla Sala Umberto c'è il tuo recital, la mia recita dai, per dirla con una terminologia scolastica. Aspetta, vediamone un estratto, non so, abbiamo un estratto credo di Osho, non so se questo è alla Sala Umberto lo scorso anno, era la Sala Umberto lo scorso anno, vediamo, c'è un piccolo contributo. è bella perché questa solitudine appunto di Mario Draghi ti ha suggerito subito questa immagine. Ah mamma, vieni a prendere. vedo che presenti, possiamo tenere un po' in sottofondo le immagini? ovviamente è l'unico estratto in cui si ride, quello che abbiamo mandato, il resto è molto noioso. No, questa non ti fa buona pubblicità. Presenti le vignette, le commenti, con un accompagnamento anche musicale. Diciamo che racconto un po' di fatti degli ultimi anni attraverso le vignette è ovvio che a teatro ho la possibilità anche di recitarle, cosa che chi le vede non può, cioè ognuno se la recita a modo suo, però io magari gli do quel tono che nelle mie intenzioni volevo... Ovviamente, insomma animi le vignette che vediamo. E anche per ripercorrere un po' di fatti. Ecco, di raccontare un po' l'Italia che tu stai raccontando da tempo. Sì, toccando anche ovviamente dei temi non più attuali, però sempre nella memoria. Insomma, unisco innovazione senza dimenticare la tradizione perché si parla sempre con questi termini culinari oramai. Adesso vediamo qualche altro delle tue istantanee su fatti di attualità insomma di cui si è parlato molto. Prima di andare in pubblicità Campomenosi a proposito del tema che sollevava Barbara Fiammeri cioè l'immigrazione legale ci sono stati credo già dei decreti flussi ma insomma la mano d'opera che serve è totalmente insufficiente a sentire le associazioni delle imprese. ma non è un problema che riguarda solo l'Italia riguarda molti paesi chi parte con i barconi è soprattutto attratto dal nostro stato sociale dai nostri da quello che sente dire da chi è già qui e che senza lavorare ottiene delle cose che spesso sono negate dai nostri cittadini e questo è molto grave. Comunque questo governo ha avuto il senso di responsabilità di fare un decreto flussi importante che non c'è mai stato e è solo attraverso i decreti flussi che si può regolarizzare il passaggio anche stagionale di chi è interessato a venire veramente a lavorare. Sì che vuol dire però poi incrementare diciamo i rapporti bilaterali con i paesi in questo caso diciamo africani no? Ah beh altro che ma infatti se guardate i dati del traffico di migranti illegali dalla Tunisia è crollato tantissimo negli ultimi mesi non fa notizia un po' come quando cala il prezzo della benzina però è un dato importante in questo momento i flussi sono un po' ripresi dalla Libia dove ci sono organizzazioni più importanti che partono con imbarcazioni più grandi ma lì paghiamo una situazione geopolitica molto incerta che persiste e ricordiamoci abbiamo parlato di Francia in Africa come nacque il crollo del regime libico e chi aveva l'interesse magari la Francia magari la Total a creare una destabilizzazione che sta continuando ancora adesso nessun governo precedente a quella attuale è riuscito a risolvere questo problema e un signore che si chiama Matteo Salvini una volta al mese deve andare in udienza a Palermo per un processo per rapimento questo è il risultato allora vado in pubblicità intanto è appena uscito il dato dell'Istat riepilogativo del Pil della crescita della nostra economia nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle il Pil dell'Italia è cresciuto dello 0,7% più 0,7% che era mi pare largamente in linea con le previsioni dovrebbe esserci un peggioramento quest'anno leggo che invece il Pil della Spagna nel 2023 è cresciuto del 2,5% il che fa rabbia perché poi l'economia italiana e quella spagnola per anni sono stati in concorrenza noi diciamo concorriamo maggiormente con l'economia francese e quella tedesca però gli spagnoli vanno a più 2,5% ci vediamo tra poco dopo la pubblicità a proposito di Pil c'è anche il dato della Germania il dato finale del 2023 è di meno 0,3% che deve comunque preoccuparci vista l'intreccio della nostra economia soprattutto in alcuni settori del nord produttivo con l'industria tedesca e quindi non si può gioire per la situazione complessa che vive la Germania è andata male anche nel primo trimestre è andata male sembra l'Italia l'Italia va meglio no no dico degli anni passati allora vorrei portarvi a un'altra questione che riguarda direttamente una cittadina italiana diceva all'inizio il governo italiano i rapporti tra l'Italia e un paese diciamo amico parlando del governo di centrodestra che è l'Ungheria di Orban cioè la vicenda di Ilaria Salis vediamo manette ceppia le caviglie guinzagli a catena tenuto da un agente le immagini di Ilaria Salis che entra in tribunale a Budapest hanno creato scalpore sdegno e sono diventate un caso politico Ilaria Salis l'insegnante milanese di 39 anni è rimasta in aula in queste condizioni per tre ore e mezzo è accusata di aver aggredito con altri militanti dell'ultra sinistra due estremisti di destra negli scontri avvenuti nella capitale ungherese nel febbraio del 2023 portata in carcere tenuta per otto giorni in cella di isolamento senza incontrare i genitori la donna dovrà rimanere ancora a lungo in prigione l'udienza si è chiusa e subito è stata aggiornata al 24 maggio lei si è dichiarata non colpevole e rischia una condanna di 16 anni finora non ha potuto leggere gli atti e vedere le immagini su cui si basano le accuse dicono gli avvocati nell'aula era presente anche un funzionario della nostra ambasciata e oggi i legali e suo padre Roberto avranno un incontro con l'ambasciatore italiano a Budapest chiediamo al governo ungherese ha scritto su X il ministro Tajani che ha convocato l'ambasciatore ungherese di vigilare e di intervenire affinché vengano rispettati i diritti previsti dalle normative comunitarie e il ministro Nordio che ha definito una fotografia molto dura ha annunciato che farà tutto il possibile per attenuare le condizioni rigorose in cui è detenuta attivando i canali diplomatici adesso il tempo delle chiacchiere deve finire e dobbiamo passare al tempo dei fatti ha detto ieri sera il padre di Ilaria Allora, Capomenosi le chiedo subito questo perché il papà di Ilaria già un anno fa credo scrisse al governo ma com'è che ce ne accorgiamo soltanto adesso? Mi sembra che il governo abbia reagito in maniera giusta perché lo Stato di diritto è un elemento importante è chiaro che ad alcuni non sembra vero di poter accusare l'Ulgeria di queste cose perché comunque nei confronti dell'Ulgeria sono state fatte tante strumentalizzazioni l'ultima proprio ieri relativa alla volontà da parte di Bruxelles di attaccare e di danneggiare economicamente il governo quindi questo è un tema politico poi c'è il tema di un immagino reato anche abbastanza grave che è stato commesso le immagini sono abbastanza chiare ma io credo nei diritti di chiunque anche degli estremisti di sinistra come questa signora e quindi anche a me non piacciono quelle immagini ho fatto bene i tagliani intervenire credo faccia parte dell'ordinamento di quel paese mi chiedo la Commissione Europea che faceva le pulci a Orban in questi anni su qualsiasi cosa in maniera strumentale non si sia mai accorta di questa usanza e ce ne accorgiamo tutti solo per questa vicenda quindi voglio dire credo che ci sia anche una responsabilità da parte di chi più che vigilare e si preoccupava di intervenire solo strumentamente sono immagini che vediamo negli Stati Uniti che vediamo anche in tante democrazie questo va detto ma è una cittadina nel nostro paese per chiedere rispetto ai suoi diritti io probabilmente ho degli elettori che dicono che invece era giusto così ma sinceramente credo che debba sempre prevalere la superiorità del diritto rispetto alla fatica degli estremisti e quindi che anche nei loro confronti dobbiamo mantenere le misure giuste io voglio ricordare perché Campomenosi ha fatto un riferimento che Orban è nel mirino dell'Europa anche perché diciamo credo sia l'unico paese che si oppone ai nuovi aiuti a Kiev tanto per ricordarcelo siccome c'è un problema di unanimità tra le altre cose e peraltro l'Ungheria poi ognuno la può pensare come vuole già nel mirino dell'Europa diciamo della Commissione Europea a proposito di diritti civili ma non solo insomma è una lunga da tempo insomma si parla di quello che succede in Ungheria e si è parlato anche di quello che è successo in Polonia stiamo però al caso Salis stiamo parlando di una cittadina italiana è trascorso un anno il punto può girarci intorno quanto vuole Campomenosi e anche gridare al complotto prima ci ha fatto un lungo elenco la Francia la Germania c'è una teoria diciamo di complotti nei confronti dell'Italia e delle politiche diciamo in generale dell'Unione Europea che arriva un po' ovunque però il tema è che il governo italiano ok ha dormito questa è la verità e che non sono diciamo così tollerabili i tweet seppur diciamo ci mancherebbe altro meglio tardi che mai dell'ultimo secondo perché qui siamo in presenza di una violazione gravi dei diritti di un detenuto non importa per quale ragione la detenuta sia in carcere non sta a noi dire se è colpevole oppure no il punto è che non possiamo vedere una cittadina italiana al guinzaglio e con i lucchetti alle caviglie e che devono essere rispettati i diritti anche dei carcerati quindi è dovere questo Tagliani stamattina l'ha ribadito l'ha sottolineato è un po' in ritardo Tagliani su questa vicenda purtroppo gli capita spesso di essere in ritardo sulle vicende importanti che riguardano il nostro paese dovrebbe secondo me esercitare il suo ruolo di ministro in modo differente con più tempestività e anche con più incisività io penso però che in questo momento davvero diciamo ogni parola che mitighi intanto l'atteggiamento di Orban e poi comunque una sollecitazione del governo italiano ad intervenire con rapidità cioè ci dovrebbe essere diciamo intollerabile bisogna agire lo dice oggi molto bene Mabonino in un'intervista che ha diciamo messo in luce la violazione grave di diritti che devono essere ripeto rispettati per chiunque anche diciamo in situazioni appunto che devono ancora essere definite dal punto di vista dell'esito giudiziario perché questa cittadina ripeto non può essere trattata in questo modo quindi che Giorgia Meloni alzi il telefono io guardo le immagini e leggo come vuoi le notizie appare sproporzionato proprio il trattamento rispetto anche al reato di cui è accusata sembrerebbe ma visto che Meloni è così in buoni rapporti con Orban alzi il telefono e faccia rispettare il rispetto del detenuto italiano il premier ungherese dovrebbe chiamare Orban visto appunto i rapporti che ci sono beh certo secondo me sì ma avrebbe dovuto farlo già da prima e non è necessario a certi livelli farlo in modo ufficiale perché in modo ufficiale si procede proprio nel momento in cui tu vuoi evidenziare come dire l'atteggiamento vuoi essere una moral suasion sottotraccia insomma diciamo così ma io penso che probabilmente sarebbe avrebbe avuto un effetto importante anche perché i rapporti sono veramente ottimi tra Orban e Meloni e probabilmente io immagino che nei prossimi giorni qualcosa succederà cioè che ci sarà diciamo un'azione più concreta è vero che è stata presa sotto come dire è stata sottovalutata questa vicenda e mi viene anche da dire che le accuse che vengono mosse al governo ungherese vedendo queste immagini che non hanno niente a che fare con la riforma della giustizia lo stato di diritto però come dire favoriscono una visione dell'Ungheria come un paese semplicemente mediatico mettiamola così nel senso che pensare a un'immagine del genere in Francia in Germania in Belgio in Spagna non ci viene in mente e anche in Italia ovviamente quindi colpisce l'impossibilità il trattamento anche il papà lei non poteva voglio dire lei con quelle catene non so se avete visto il guinzaglio come l'abbiamo definito le teneva anche bloccate le mani quindi se lei voleva ad esempio toccarsi i capelli la signora la gente che la teneva doveva allungare la catena in modo che lei potesse alzare le mani se no lei non poteva neanche non poteva neanche soffiarsi il naso ora voglio dire tra l'altro appunto se è vero questo non lo sappiamo che l'avvocato difensore non ha neanche potuto vedere i video in cui immagino l'accusa sia che abbia partecipato a quel testaggio è stato detto e volevo dare un altro elemento perché poco fa ha riparlato il padre Roberto Salis e che fa un'accusa insomma abbastanza grave dice credo che l'ambasciata italiana abbia partecipato ad almeno quattro udienze in cui mia figlia è stata portata in queste condizioni davanti al giudice noi fino al 12 ottobre quando mia figlia ha scritto una lettera non avevamo evidenza del trattamento che stava subendo che stava subendo gli unici che lo sapevano e non hanno detto nulla sono le persone dell'ambasciata italiana in Ungheria insomma questo dice ha detto poco fa il papà di Ilaria Salis buongiorno a Paolo Sottocorona buongiorno minime molto basse massime sopra la media no forse non mi voglio sostituire a te però è quello che mi pare di capire o no forse hai avuto notizie dei famosi 20 gradi no i 20 no io ho letto 15 16 non so poi forse ci sono anche i 20 no perché di questi 20 gradi hanno parlato a lungo ma poi nessuno ne ha più avuto notizie insomma ci sono state in Spagna ma le previsioni per l'Italia abbiamo parlato della Spagna per altri motivi non da previsioni la meteo chissà lì quanti ne avevano previsti vabbè non cambia nulla rimane la situazione molto simile ci sono queste nebbie stagnanti al nord che mantengono lì bassissime anche le temperature massime perché rimangono nella nebbia per 24 ore quindi il sole non lo vedono proprio e quindi però quella è una situazione transitoria al momento che va via la nebbia si ritorna nella quasi normalità che è quella appunto di temperature minime che si alzano un po' quando il cielo si copre si abbassano quando il cielo è sereno massime fuori dalla nebbia pressoché costanti come tempo eccolo qua oggi qualche nuvola potrebbe arrivare al nord sul versante tirrenico il grigio non sono previste precipitazioni nella giornata di domani mercoledì qualche debolissima piovigine forse quindi capite che le quantità sono veramente infinitesimali che riguardano il versante tirrenico in parte del sud arriviamo alla giornata di giovedì che era questa poi in realtà vedete ancora una volta qualche debolissima cioè insomma il tempo è stabile con piccole incertezze le temperature massime appunto dove non c'è dove non c'è la nebbia rimangono su quei valori che vanno fra i 12 e i 14 gradi forse 15 al sud ma di lì non si muovono quindi non risentono come abbiamo detto più volte né della merla né della candelora quindi resteranno così ancora per diversi giorni grazie grazie a Paolo Sottocorona dopo la pubblicità vediamo che cosa stanno combinando gli agricoltori in Europa la protesta dei trattori e tra poco nei salotti e nelle redazioni di chi ci contesta l'odore di letano e non arriva parola di Francesco Lollobrigi da ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare dopo che non a tutti è piaciuta la promozione della pasta italiana in orbita un ringraziamento quello del ministro a pescatori a artigiani e imprenditori autori del Medi in Italia appunto ma rivolto soprattutto agli agricoltori che arriva proprio quando mezza Europa è letteralmente presa d'assedio da centinaia di trattori il nemico comune delle manifestazioni nate in Germania contro il taglio delle agevolazioni sui carburanti e dilagate in Olanda Belgio Francia Polonia Grecia e ora anche in Italia si chiama Green Deal il piano di Bruxelles per arrivare a zero emissioni entro il 2050 a pagarlo secondo le proteste sarebbero soprattutto gli agricoltori con politiche stringenti costi delle materie prime alle stelle e nessuna protezione contro la concorrenza sleale di paesi extraunione mentre i trattori hanno bloccato i porti tedeschi e sono arrivati a Berlino hanno preso d'assedio Parigi e minacciato di arrivare a Bruxelles la protesta è arrivata anche in Italia con decine di persidi manifestazioni blocchi del traffico fino al tentativo di occupare l'autostrada A1 al casello di Orte una protesta che però almeno in Italia a differenza di altri paesi sembra trovare l'appoggio del governo le opposizioni Renzi in testa denunciano invece come l'esecutivo abbia ulteriormente penalizzato gli agricoltori sta di fatto che mentre i trattori minacciano di arrivare a Roma il governo tenta di placare gli animi invocando il buonsenso ricordando come le istanze degli agricoltori siano da sempre quelli della maggioranza si paga in Europa per non coltivare si paga in Europa per non pescare e sono politiche sbagliate purtroppo previste prima dell'insediamento di questo governo e che noi stiamo chiedendo all'Europa di correggere rapidamente ed alcuni risultati concreti arriveranno anche nei prossimi giorni allora prima di entrare nel merito perché c'è un legame un filo rosso con la questione ambientale vi faccio vedere altre due vignette di Osho in merito ai famosi 30 km orari stabiliti per gran parte del territorio della città di Bologna questa è la prima viglietta prego e qua perché si diceva che il sindaco avesse detto così sentiremo il canto degli uccelletti e quindi senti che meraviglia sento pure cantare gli uccelletti in macchina dici secondo me la cinghia di distribuzione che si sta per sfornare sì però questa non si sa se è una cosa vera no non si sa se questa cosa degli uccellini è una cosa che ha detto veramente sì questo si è sentito dire però poi ho visto l'ordinanza ovviamente nell'ordinanza non c'è traccia però e poi ce n'è un'altra credo ancora sui 30 km orari vediamo un po' c'è una moglie che prende una multa ma hanno fatto una multa per eccesso di velocità mentre parcheggiavo e oramai a Bologna la prima la retromarcia soltanto possono essere utilizzate allora veniamo invece alla questione seria non che non sia seria questa vicenda che ha spaccato già l'opinione pubblica a Bologna e la politica veniamo alla questione delle proteste degli agricoltori diciamo do un viatico se un bell'assist a Campomenosi no Campomenosi e qui protestano però le proteste diciamo si differenziano un po' nei paesi europei certamente c'è ci sono le politiche green dell'Europa diciamo le tempistiche queste politiche green c'è la politica agricola la PAC diciamo le risorse che l'Europa dà all'agricoltura sentivamo i costi delle materie prime e rispetto a quanto lei diceva anche prima rispetto alla concorrenza della Cina la concorrenza proprio sleale con altri paesi no? no ma pensate che quando abbiamo votato la politica agricola comune come Parlamento eravamo anche contenti di essere riusciti a evitare alcune delle posizioni ancora più estremiste che il commissario Tirmermans che oggi per fortuna non è più commissario avrebbe voluto imporre tant'è vero che tutti i partiti italiani compreso me avevano votato a favore del risultato di un negoziato complesso lunghissimo che veramente era partito da condizioni molto estreme l'unico partito che voto contro erano i 5 stelle perché invece quelle cose estreme di Tirmermans le avrebbero volute e per fortuna non erano passate perché la protesta in Italia e in alcune realtà solo adesso e magari non vedete neanche le bandiere delle associazioni di categoria che spesso sono importanti e molto rappresentativi perché per due anni gli stati potevano derogare rispetto a certe norme e oggi non possono più farlo quindi ha ragione il ministro quando dice che è una cosa che gli è arrivata fra capo e corto in Germania e in Francia c'è un tema relativo ai finanziamenti per il carburante agevolato che sono venuti meno e attenzione non dimentichiamo l'Olanda dove che fu di fatto un luogo sperimentale di alcune delle politiche più estreme è il paese di Timmermans che però ha perso le ultime elezioni dove si decise di eliminare un terzo dei capi bovini perché quel governo liberale di centrosinistra diceva che i capi bovini inquinano hanno un problema di azoto hanno tante cose l'Olanda è stata bloccata un anno e mezzo dagli agricoltori e tutti i cittadini che agricoltori non sono li sostenevano al punto che pochi mesi fa si è votato e hanno vinto i partiti che erano contro quelle misure in questo Parlamento che vedete alle mie spalle si vota un provvedimento sulle emissioni industriali abbiamo dovuto votare sul numero di bovini poi per fortuna siamo riusciti a toglierlo via per cui una stalla è un'industria inquinante vi rendete conto sono paradigmi talmente ideologizzati che ovviamente non si può che fare una protesta di quel tipo chi dice in Francia ora le misure le cambieremo il nuovo governo che ha installato Macron vuole installare delle misure per modificare alcune norme fa finta di non sapere che è Bruxelles che le ha imposte noi abbiamo fatto un lavoro ma vi assicuro che Timmermans dietro di seade va a tanti parlamentari europei che sostenevano certe posizioni e più di questo per questa fase e in questa legislatura non si è potuto fare speriamo dalla prossima questa gente è arrabbiata non è che viene neanche più da me questa è arrabbiata con tutto sì due temi Barbara Fiammeri cioè uno un tema riguarda la politica che verrà cioè la governance che verrà in Europa con le elezioni europee questo mi sembra il tema dominante perché ovviamente legittimamente il centrodestra io mi limito a quello italiano ma insomma anche magari i conservatori e i sovranisti europei sperano che con dei rapporti di forza diversi anche le politiche green seguiranno un altro corso o no cominciamo da qui sì già c'è stato un cambiamento nell'ultimo anno anno e mezzo c'è stato un cambiamento una frenata è chiaro che ci troviamo in una fase di transizione come in tutte le fasi di transizione già accaduto anche in passato mi spiace ripeterlo ma nelle fasi di transizione una serie di tutto il sospeso però dovrebbe sì ma una serie di industrie subiscono una penalizzazione a vantaggio di altre che emergono e siamo in questa fase è vero fa sorridere l'idea di dover numerare i capi bestiame per una stalla ma sappiamo anche che è vero che tra le ragioni più inquinanti ci sono proprio gli allevamenti intensivi quindi è come il tema che ponevamo prima le regole l'Unione Europea impone delle regole queste regole sono o difficili da attuare o anche difficili da verificare questo è un dato di fatto ciò non toglie che però come dire verso una certa direzione si deve andare ma per il bene di tutti nel senso senti ma quanto adesso vediamo se monterà e come monterà in Italia questa protesta potrebbe essere imbarazzante per il governo o no un problema per il governo o no secondo te insisto con quello che dicevo prima sì potrebbe essere un po' imbarazzante un po' imbarazzante per il governo ma il governo non ha cioè il governo non ha competitors e finché non hai una competizione dall'altra parte come dire può vivere sonni tranquillissimi perché senatrice Paita Renzi dice che il governo ha penalizzato gli agricoltori perché perché ha aumentato l'IRPEF agricola di circa 250 milioni è chiaro che in un quadro di difficoltà come quello che è stato descritto che deriva anche da situazioni culturali poi ci sono anche stanze che maturano nei singoli paesi oltre a quelle è molto chiara su questo che il tema della transizione ambientale debba essere governato anche in ambito europeo con maggiore intelligenza e flessibilità è sacrosanto cioè è chiaro che atteggiamenti ideologici e rigidi non aiutano diciamo il tema della transizione perché qui sono in ballo mille questioni della plastica alla questione del carburante poi ci sono situazioni congiunturali che hanno ovviamente il loro peso pensiamo a cosa sta accadendo in tema proprio di materie prime rispetto alla vicenda del Mar Rosso e qui come dire ci sono agricoltori che sono stretti in una morsa di cambiamento anche inevitabile come veniva detto ma che deve essere governato con norme intelligenti su scala europea e situazioni come dire invece che sono in parte anche diciamo difficilmente affrontabili e in più ci si mette il governo italiano che anziché aiutarli lavora per aumentare la tassazione nei confronti degli agricoltori ora questa questione ha una ripercussione abbiamo fatto delle simulazioni ci sono aziende che hanno addirittura degli aumenti di 10.000 euro è chiaro che questo incide nella vita di un'impresa agricola è stata una scelta sbagliata mentre il governo Renzi aveva dato una mano agli agricoltori il governo Meloni in una situazione già molto complessa sulla quale ci sono anche delle responsabilità europee è chiaro che sta facendo ulteriormente dei danni e penso che questo ovviamente non sia irrilevante ai fini della protesta che sta in qualche modo crescendo vedremo noi stiamo dicendo al governo ripensateci ripensateci perché state facendo una scelta sbagliata che penalizzerà moltissimi i nostri prodotti altro che promuoverli nell'iperuraneo o nello spazio bisognerebbe essere capaci di fare politiche serie meno propaganda di Lollobrigida a sproposito e più interventi in favore degli agricoltori questo deve fare il governo Meloni posso aggiungere una cosa rapidissimamente prego Capomenonici perché tutte queste misure imposte da Bruxelles di fatto si riducono in una richiesta di produrre meno gli agricoltori quindi significa che i costi aumentano e quindi significa che rispetto a ciò che entra nel mercato interno dell'Unione dall'Asia dall'Africa dal Sud America dal Nord America c'è un deficit di competitività oltre al fatto che i consumatori europei sono sempre più costretti ad acquistare prodotti agricoli Campomenosi singolare che tu non dica una parola sugli aumenti delle tasse che avete fatto singolare è una richiesta di ridurre la capacità produttiva ad aziende che già hanno una difficoltà avete aumentato le tasse agli agricoltori no ma non è quella è così magari non rispondi non ti appelli all'Europa ma l'hai fatto tu quest'aumento con la tua forza politica dentro questo governo nella legge di bilancio posso posso tanto ho capito che siete ovviamente supposizioni opposte prima di chiudere vorrei farvi vedere qualche altro racconto per vignette di Federico Palmaroli su alcune vicende italiane di cui ci siamo molto occupati per esempio c'è la vignetta dedicata alla candidatura alla famosa competizione all'interno del centro-destra per scegliere il candidato alla regione Sardegna vediamolo è la tre questa diciamo che l'indagine c'è vediamo se arriva però eccola qua l'indagine su Solina sta insomma un po' risolto la questione perché c'era un po' una situazione di cioè tu dici che i giudici hanno risolto le in questo caso sì perché Salvini qua lo dice poi capì hanno indagato Solinas un mannaggia perché in realtà c'era questo scontro per la candidatura di Truzzo e poi è arrivata l'indagine su Solinas che adesso però almeno per la Sardegna il centrodestra ha deciso chi correrà a capo della regione a presidente della regione poi a proposito restando nel centrodestra il caso Pozzolo vediamo c'è la vignetta vediamo la 4 dovrebbe essere eccolo qua sì vabbè appena ha sentito che c'era una pistola pronto onorevole Pozzolo per caso ha pure altre armi perché Teleschi sta sempre a corto di armi sì poi c'è una vignetta che riguarda Salvini e Lameloni ritratti insieme i sovranisti quando c'è stato il raduno sovranista a Firenze no mi piaceva questa foto perché sembrava veramente un rapporto tra mamma e figlia io vado a giocare qui sotto con i sovranisti sì ma non uscite fuori dall'Europa che mi arrabbio perché pure lì sembra ci sia stata un po' di maretta poi ce n'è anche per l'opposizione per il PD in particolare parliamo del raduno di Gubbio vediamo dovremmo avere un paio di vignetti un capolavoro di marketing vediamo un po' se arriva un capolavoro sì con la Sheline che ha convocato l'entroduco che è arrivata un giorno dopo forse la motivazione è questa scusate il ritardo ma solo per uscire da Bologna ci abbiamo messo un giorno perché con i 30 all'ora effettivamente la motivazione in realtà è stata ancora più ridicola è stata quella dove andare al cinema vediamo se c'è eccolo qua dai su parliamo del salario minimo però veloce che tra mezz'ora c'ho il percorso benessere questa è la politica con la spa nella sede scelta c'erano anche delle sedute di armo cromoterapia poi l'olobrigida vediamo la vignetta il treno famoso è di Capodanno questo è di Capodanno vediamola un po' questa è la sette dovrebbe essere una di quelle usanze di Capodanno ma perché abbiamo rallentato c'è uno che deve scendere a Ciampino anche sui trenini e questa è la famosa fermata persona ma del Frecciarossa e del ministro l'olobrigida e l'ultima credo che sia sul caso dei Ferragni del Pandoro Griffato dopo il Pandoro le uova di Pasqua le bambole la moda di Maverità neanche piavi pure il reddito di cittadinanza ecco così Federico Palmarone Oscio racconta tutti i giorni le vicende italiane io prima di chiudere cito quanto ha detto poco fa Fiorello e questo farà la gioia della senatrice Paita perché Fiorello come sapete fa un programma in cui si fa la sua rassegna stampa e a un certo punto ha detto questa ve la devo dare questa notizia con calma perché mi ha scosso Bonetti e Rosato passano ad azione partito di Calenda quindi azione sono Bonetti Rosato e Calenda e siamo a tre poi chi c'è la Carfagna ragazzi siete quattro il Burraco è salvo lei ride perché la competizione ormai tra le arriva e azione è apertissima Burraco secondo me fa più felice lei che me conoscendo diciamo la sua capacità di giocare a carte e invece per quanto riguarda la notizia caramba che sorpresa ma non sarei mai aspettato che sarebbero ma vi mettete insieme all'europea sì guardi noi stiamo lavorando per cercare di rendere Italia Viva una casa accogliente dei riformisti e naturalmente chi non vorrà stare in un percorso dei riformisti uniti si assumerà le proprie responsabilità giocheremo una partita e raggiungeremo 4% dimmi se lo zionno si metteranno insieme azioni Televive più Europa per l'europea non lo so non lo so è impossibile giustamente è impossibile capire vediamo che ne pensa David ciao caro Andrea io intanto qui oggi ho la bandiera d'Europa però l'ho fatto per te però in realtà c'è poco da ridere perché partiremo dal caso di Ilaria Salis mi so che ne hai parlato anche tu peraltro anche Fiorello oggi ha fatto riferimento a questo caso incredibile la ragazza di 39 anni che è stata portata con i ceppi legata a mani e piedi in quest'aula di tribunale allora quello che diciamo è che siccome l'Ungheria appartiene a pieno titolo all'Europa e beh su questo diciamo tutti i paesi si dovrebbero muovere in primis il nostro e speriamo che la vicinanza di Salvini e Meloni con il premier Orban faccia qualcosa noi abbiamo qui anche la lettera che Ilaria Salis ha scritto ai suoi avvocati dove racconta le modalità della sua incredibile detenzione rischia fino a 24 anni di carcere da 11 mesi è detenuta lì ma quelle immagini hanno sicuramente scioccato tutti i cittadini d'Europa da qui partiamo poi il vertice Italia-Africa a dire che non è andata benissimo non sono i soliti complottisti di sinistra ma è uno è lo stesso presidente dell'Unione Africana che ha detto non siamo stati consultati bisogna passare dalle parole ai fatti le parleremo con il professor Luciano Canfora sarà con noi anche Vittorio Feltri torna in televisione l'onorevole Abubakar Sumahoro Angela Zaro e Francesco Giubilei e poi faremo un viaggio nella sanità con un milione e 600 mila famiglie che non possono più curarsi vi racconteremo di ambulatori privati che nascono un po' ovunque per cercare di supplire alla mancanza del pubblico e chiuderemo con Federico Rampini e quindi ritorniamo all'Africa tra poco partendo dal caso di Ilaria Salis grazie Andrea grazie a te allora tra poco c'è la raghettina io ringrazio l'onorevole Marco Campomenosi grazie alla senatrice Paita grazie a Barbara Fiammeri grazie e in bocca al lupo per domani sera a Federico Maroni il 14 febbraio al Teatro Gioiello Torino domani sera al Salomberto di Roma il 14 febbraio il giorno di San Valentino al Teatro Gioiello a Torino benissimo ecco sì abbiamo dato conto anche insomma delle tappe italiane di le più belle frasi di Osho ci vediamo domani grazie grazie a tutti